Buonasera a tutti, mi chiamo Gianluca Brambilla e sono un imprenditore Brianzolo. Grazie a Brianza Channel questa sera ho la possibilità di presentarvi un'idea, un progetto che dovrebbe aiutare molti piccoli imprenditori, come d'altronde lo sono io, a reagire, a rispondere a questa drammatica crisi finanziaria che ha investito il sistema creditizio italiano. L'idea che vi voglio proporre questa sera si chiama progetto BOT Brambilla o BOT piccole e medie imprese. In questo momento infatti il sistema bancario italiano è veramente in grande difficoltà a erogare credito alle piccole e medie imprese e sembrerebbe che questa situazione sia destinata a procrastinarsi nel tempo. Gli interventi anche degli stati nelle banche, come verrà presto in Italia attraverso i tremonti bonds, sembrerebbe non essere sufficiente a garantire alle banche quella liquidità necessaria al sistema imprenditoriale italiano, alle imprese. Inoltre questa difficoltà è aumentata dal fatto che le politiche creditizie delle banche sono sensibilmente cambiate, sono diventate molto più severi e molto più restrittive. In questo momento anche andando presso una banca con la quale si lavora da molti anni, portando delle garanzie reali come degli immobili, si corre il rischio di sentirsi rispondere no grazie, non siamo interessati a darvi del credito. L'unica spiaggia che sembrerebbe esserci rimasta è rappresentata dalle cosiddette cooperative fidi o comunque da tutti quei confidi che dovrebbero aiutarci a garantire il sistema bancario per i crediti che andremo a richiedere loro. La verità è che i confidi coprono oggi una piccola parte dei crediti che le banche erogano al sistema delle imprese e probabilmente anche l'impegno speciale, supplementare di tutti questi enti non sarebbe in grado a garantire un livello di credito sufficiente. Inoltre noi assistiamo a una diminuzione della qualità del nostro credito, quindi una diminuzione del rating che le banche utilizzano per giudicare le nostre aziende in quanto le insolvenze che riceviamo dai nostri clienti peggiorano la nostra immagine nei confronti della nostra banca, delle banche con cui lavoriamo normalmente. L'idea che sono qua a proporvi è quella di chiedere alle nostre autorità, allo Stato italiano che in questo momento è il garante massimo del sistema creditizio italiano, la possibilità che coloro che credono nelle nostre aziende a partire da noi, che siamo gli azionisti, che siamo i soci di riferimento delle nostre aziende, ma anche di tutti coloro che credono nelle nostre aziende di poter acquistare dei titoli di Stato, dei bot, dei bot per le piccole e medie imprese che noi si possa dare al sistema bancario a garanzia per gli affidamenti che da questo riceviamo. Però questi bot devono avere delle caratteristiche particolari. Innanzitutto questi bot devono poter essere messi a garanzia dei crediti che riceviamo dalle banche e devono essere contrassegnati nei nostri bilanci come mezzi propri, cioè come mezzi che derivano dai soci o derivano da stakeholders, da persone, da soggetti che in qualche modo hanno interesse a finanziare le nostre imprese. Essendo confluiti nell'interno delle nostre aziende come mezzi propri, questi mezzi non finirebbero per essere considerati finanziamento di terzi, peggiorando il nostro rating bancario o il livello di nostro indebitamento, ma appunto perché considerati mezzi propri migliorerebbero il nostro rating. Inoltre dovremmo poter confluire questi bot PME o bot Brambilla che dir si voglia nelle nostre imprese in una misura che possa superare anche quei massimi previsti per il capitale sociale delle imprese come le SRL per esempio, ma poter essere confluiti nella misura in cui noi riteniamo opportuno confluire senza dover ricorrere a collegi sindacali. Inoltre questa mole, questa massa di titoli che daremmo a garanzia alle banche per gli affidamenti, dovrebbe prevedere che questo processo di entrata o uscita di questi titoli a garanzia dalle nostre aziende avvenga senza dover passare attraverso le forche caudine di notai, camere di commercio o comunque consulenti che finirebbero per rendere onerosa questa operazione. I bot Brambilla, una volta dati alle banche a garanzia, dovrebbero prevedere che in automatico le banche diano a noi dei mezzi finanziari a dei tassi che siano assolutamente di favore, che non debbono minimamente tener conto del nostro rating. In altre parole, noi confluendo 100 mila Euro di bot Brambilla nelle casse della nostra azienda, dovremmo automaticamente poter disporre di 100 mila Euro di affidamento da parte del sistema bancario a delle condizioni, a dei tassi che dovrebbero essere di poco superiore all'Euribor. Gli interessi passivi derivanti dagli oneri finanziari che noi paghiamo al sistema bancario perché generati su finanziamenti garantiti da bot non dovrebbero poi essere conteggiati nel rapporto previsto dalla legge per la detrazione degli interessi passivi. In altre parole, questi interessi passivi dovrebbero poter essere da noi detratti serenamente senza nessun limite da un punto di vista fiscale. Questo è il progetto che desideravo presentarvi. Ovviamente vi sono molte sfaccettature che andrebbero analizzate e mi piacerebbe anche molto avere il vostro parere. Se siete interessati ad approfondire questo argomento, per favore andate sul sito di brianzanews.it, andate nella sezione l'opinione di e scaricate l'opinione di Brambilla. In questo caso potrete andare a vedere il progetto bot PMI o bot Brambilla nella versione integrale e poi scrivermi i vostri pareri. Grazie mille della vostra attenzione.